Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e oggi ho per voi un video davvero molto molto speciale perché c'è un pacchetto che dobbiamo spacchettare insieme e io non vedo l'ora di vedere il contenuto e anche di mostrarlo a tutti voi. Il pacchetto è questo qui, piccolo, non lascia trasparire niente, però qua dentro c'è qualcosa di speciale, qualcosa che io non vedo l'ora di aggiungere alla mia collezione, perché sì, spoiler, si tratta di un libro stranamente. Però ora basta cincischiare come mio solito e passiamo subito alla fase dello spacchettamento, il momento gioieblorioso che tutti stiamo attendendo perché io sono abbastanza fremente e immagino anche voi. Ora il problema sarà solo capire come aprirlo, senza distruggere la roba che c'è dentro. Lo stiamo facendo a pezzi! Vedo cose meravigliose, cose meravigliose! Ma noi partiremo dal libro perché penso che sia questo quello che sta incuriosendo tutti dall'inizio del video e il libro in questione è Dream Hunters, il ponte illusorio, di Miriam Benothman. Il libro che mi è arrivato con tanto di bellissimo segnalibro, perché è veramente stupendo, forma, disegno, questa collana la vorrei anch'io. E udite, udite, gioia e tripudio nel regno, mi è arrivato anche con tanto di canottiera con la copertina del libro. Ma ora, tornando al libro, Dream Hunters, il ponte illusorio è stato scritto da un'autrice italiana ed è un romanzo fantasy e nel momento in cui vi svelerò un pochino la trama, capirete tutti perché ho accettato questa collaborazione, perché questa trama unisce tante delle mie cose preferite. Ve la leggo perché è molto più esplicativa di quanto io sarò mai in grado di essere. Cosa si prova nell'incontrare cappuccetto rosso e biancaneve e innamorarsi di un vero principe azzurro? Tra le vie di Parigi, Sophie si imbatte in un antico libro di favole ed è vittima di un'allucinazione. Hanno così inizio i suoi sogni vividi e surreali, ambientati in una dimensione parallela, popolata da personaggi incantati. In essi la ragazza scolpe di riuscire a manipolare le fiabe e così facendo anche il mondo reale cambia. Chi segue questo canale da un po' ormai saprà che io ho una passione spropositata per i romanzi fantasy, che amo profondamente tutto ciò che riguarda Parigi e che sono anche una fan piuttosto accanita di un telefilm che si chiama Once Upon a Time, in italiano c'era una volta. E per chi non lo conoscesse il titolo parla molto da sé, perché è un telefilm in cui le favole prendono letteralmente vita. Perciò per me trovare tutte queste cose in un libro, quindi un'ambientazione fantasy, favole, Parigi, Insomma, come potevo non leggerlo? Come potevo non leggerlo? Io personalmente sono davvero entusiasta di poter leggere finalmente questo libro e non vedo l'ora di vedere come l'autrice ha mescolato un'ambiance parigina con elementi chiaramente fantasy e di rivedere anche alcune delle favole che conoscevo da bimba, quindi Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Biancaneve. Insomma, sono davvero curiosissima. E voi mi raccomando state sintonizzati sul canale perché parlerò molto presto di questo libro. E nel caso qualcuno di voi volesse sapere qualcosa in più a riguardo, vi lascio giù nell'info box vari link che potrebbero esservi utili, quindi il link ad Amazon, il link al sito e così via. Perciò, nell'eventualità, trovate tutto giù linkato nell'info box. E allora dunque, io vi saluto, vado a leggere perché devo iniziarlo subito. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!